Sono tre le giornate che devono ancora essere disputate nel campionato di Serie B nazionale con la lotta per le posizioni al vertice in entrambi i gironi che si fa sempre più serrata specialmente nel girone B. Il turno prepasquale è stato un test di prova importantissimo per la palacanestro Roseto che con la quarta vittoria consecutiva ottenuta sul parquet di San Vendemiano ha consolidato il primato solitario in classifica. Partita di carattere quella dei Biancazzurri in terra Veneta con cinque giocatori in doppia cifra, Klusnik, Petracca, Tamani, Guayana e Durante e Capitan Manzaris da quasi doppia doppia, nove punti, nove assist. Una prestazione che ha certificato come Roseto stia aumentando ulteriormente i giri del proprio motore a poche partite dall'inizio dei playoff. Segnale questo assolutamente da non sottovalutare in un collettivo che più di una volta in questa stagione ha dimostrato di essere unito e compatto sotto la guida illuminata di coach Franco Gramenzi. Per San Vendemiano priva del rosetano doc di Emidio da risaltare la grande partita di Calbini, 33 punti con 8 su 11 nelle triple. Chi sta dimostrando di tenere il passo della capolista? Iesi che battendo Ravenna ha ottenuto l'undicesima vittoria consecutiva, un ruolino di marcia devastante per la squadra di coach Ghizinardi che non perde in campionato dal 24 di gennaio. Nell'ultimo successo esterno contro i Romagnoli il risalto Tiberti doppia doppia con 15 punti e 11 rimbalzi ben supportato da Marulli, Casagrande e Varaskin. Dopo la sbandata delle ultime settimane vede il cambio di panchina e le sconfitte contro Fabriano e Faenza, si rimette in asse Ruvo di Puglia che come da pronostico batte facilmente una Taranto ormai retrocessa. Ruvo al momento al terzo posto in classifica, subito dietro in quarta posizione segue Fabriano. I cartai hanno piegato in casa un ostica lumezzane dopo un inizio di partita molto complicato, seguito da due quarti centrali equilibrati e da una quarta frazione stellare in attacco, con 33 punti messi a segno. Sei giocatori in doppia cifra per i marchigiani, Giombini, Stanic, Centanni, Bedin, Gniecchi e Negri. Faenza batte di misura una coriacea bisceglie e conquista altri due punti importanti per staccare il pass della post-season. Per i neroverdi partita a grilievo di Poletti, doppia doppia con 19 punti e 10 rimbalzi e già si alzano i decibelli in vista dello scontro diretto contro Roseto nel prossimo turno. Partita importantissima per entrambe le squadre proprio in ottica posizionamento playoff, oltre ovviamente al fattore Poletti che incontrerà la sua ex squadra. Vittoria fondamentale di Chieti sul parquet della Virtus Simola, alla quale si aggiunge l'altro successo importante nell'infrasettimanale contro lumezzane. Quattro punti che servono per consolidare la posizione dei Tatini nella comfort zone in zona salvezza diretta, in vista delle ultime tre partite della stagione regolare. Contro la Virtus Simola, determinanti ancora una volta Lips e Paisano, supportati da Berra e Maggio. Resta ancora aperta infine la lotta per l'ottavo e ultimo posto disponibile della griglia playoff, con Sansevero e Andrea Costa Imola che escono sconfitte rispettivamente contro Mestre e Ozzano. Tiene vive le speranze e salvezza diretta anche Vicenza che fa suo il derby Veneto espugnando il parquet della Virtus Padova. Amici e amici di Super J, buonasera, benvenuti e bentornati a questa nuova puntata di Super Basket. Avete appena visto la copertina della ventiseiesima puntata della sesta stagione, siamo ovviamente in diretta sul canale 16 su Super J. Operativo anche il nostro numero WhatsApp che vedete in sovrimpressione. Vi invitiamo già da adesso ad inviarci i vostri messaggi, operativa anche la nostra diretta Facebook, quindi potete interagire sui nostri canali social. Ringrazio Francesco Di Carlo per quanto riguarda il coordinamento in regia, tanti gli argomenti che andremo ad affrontare in questa puntata. Saluto Antonello Ruggero, team manager di Roseto, che ha vinto un'ottima partita in trasferta e poi faremo il punto anche del momento dei Biancazzurri. Ciao Ruggio, bentornato. Buonasera a tutti. Bentornato, diamo il benvenuto poi al coach delle Panthers. Roseto parleremo tanto anche di basket appunto per quanto riguarda la Serie A2 femminile. Do il benvenuto a coach Mara Buzanca. Ciao coach. Buonasera, buonasera a tutti. Tanti gli argomenti che affronteremo appunto con coach Mara Buzanca e poi prima ospitata anche per lui, si parlerà di mondo minors ma non solo perché di aneddoti ne ha tantissimi, tanti chilometri percorsi nel mondo cestistico con l'attuale direttore sportivo della nuova Farnese Campli, Marco Di Stefano. Ciao Marco. Buonasera a tutti. E poi abbiamo anche con noi, torna a trovarci l'amico Federico Di Domenico in collegamento con noi. Ciao Fede. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Avremo anche tanti ospiti nel corso appunto, sempre in collegamento nel corso di questa ventiseisima puntata e cominciamo appunto con andare a vedere con l'aiuto della grafica risultati e classifica dell'ultimo turno del campionato di B dove appunto sono impegnate le due formazioni abruzzesi, Roseto e Chieti, B nazionale, il girone B nello specifico. Abbiamo fatto il quadro a livello di voci e avete visto anche le immagini nella copertina. Queste però con l'aiuto delle grafiche sono tutti risultati a livello numerico. Quelli che ci interessano nello specifico, la vittoria di Roseto a San Vendemiano 71 a 79, la vittoria altrettanto importante per quanto riguarda, come abbiamo detto, il discorso salvezza diretta per Chieti sul difficile parche della Virtus Imola. Vediamo quindi come si evolve la classifica, anche perché oggi poi cominciamo a fare anche un po' il punto della situazione sulla volata che si sta di fatto prospettando a tre, ovvero Roseto, Iesi e Ruvo. Queste sono le prime tre, Roseto però è prima da sola a quota 48. San Vendemiano che con questa sconfitta si tira fuori, diciamo, dalla matematica, ancora non la condanna, però fondamentalmente si fa un po' più complicato per i bianconeri. Via via vedete tutte le altre squadre, Fabriano, Mestre, Faenza, Imola e Sansevero. Questa è la parte sinistra appunto della classifica. Chieti che con due vittorie consecutive si rimette diciamo in zona abbastanza tranquilla a quota 28 punti e vedete appunto come è la situazione nella parte destra per quanto riguarda appunto questa classifica. Parto subito da Antonello parlando della vittoria contro, insomma, ottenuta in terra Veneta. Antonello, vittoria pesantissima, l'abbiamo detto anche nella copertina, a breve andremo a vedere le immagini. La quarta consecutiva e questa è dal peso specifico importante, si trattava di fatto di uno scontro diretto di mettere anche fuori la formazione Veneta, diciamo, dal discorso primo posto. Sì, assolutamente. È stata una partita difficilissima da affrontare perché sappiamo che San Vendemiano in casa è veramente una squadra molto forte, però in quell'occasione mancava il loro playmaker di medio e quindi per loro era una difficoltà in più. Ma devo dire, a parte le prime battute iniziali, la squadra veramente è stata sul pezzo per tutti i 40 minuti, diciamo che ha comandato per tutti i 40 minuti su un campo difficile, ripeto, con tante difese tattiche, difese diverse, ma i ragazzi e il coach hanno preparato benissimo la partita e questo è il risultato. Una piccola flessione finale, però ecco. Ci può anche stare. Ci può anche stare, però ecco, mi ricordo l'ultimo team out che ha fatto il coach Calamensi con due punti dopo il team out e abbiamo chiuso la partita, quindi siamo molto contenti della prestazione dei ragazzi, dell'atteggiamento che hanno fatto e siamo davvero contenti. Antonello, ancora una volta perché cogliamo diciamo le chiavi che abbiamo fatto nel servizio. Cinque giocatori in doppia cifra, fai cinque e mezzo contando appunto Manzaris che comunque realizza, insomma fa nove e nove, quindi anche lì una doppia doppia sfiorata. Ancora una volta una prestazione da squadra praticamente, cioè squadra che gioca basket, pallone che si muove come un flipper, difese che devono far fatica, punti, insomma non dai diciamo giocatori. Punto di riferimento alle altre squadre. Esatto, pochissimi e soprattutto un Santiangeli che fa virgola e nonostante questo vinto. Il collettivo, il collettivo, la forza di questo gruppo, la squadra che è stata costruita quest'estate, cioè la forza proprio di costruire un gruppo di ragazzi pronti a giocare su ogni momento, in ogni occasione, quindi sopperire la mancanza di un altro giocatore, questo è dall'idea di una grande squadra, ecco, quindi per affrontare poi al meglio il finale di stagione c'è bisogno di tutti e se viene a mancare qualcuno c'è sempre il compagno che riesce a far sentire la mancanza del compagno, quindi siamo davvero contenti e dobbiamo continuare così, stare sul pezzo, mancano tre giornate alla fine e può succedere di tutto, quindi bisogna stare concentrati fino alla fine. Mara, vedevo che annuivi sul concetto di quando, diciamo, deficita un compagno subito emerge l'altro. Roseto soprattutto, diciamo, durante il corso della stagione ha fatto emergere proprio questo aspetto, anche, diciamo, dopo l'affare Poletti, insomma, va via il tuo giocatore che doveva essere il giocatore Cardini, da lì la squadra ha avuto una spinta incredibile, si è fatta ancora più gruppo, trovando poi Manzari su un capitano, insomma, ideale, ma ripeto, con il tuo miglior marcatore, Santi Angeli, che fra virgola vai a vincere su un campo comunque difficile, quindi segnali, insomma, li analizzo con te che sei un tecnico. Sono importanti perché comunque, secondo me, questa è la mentalità, sai quando si dice proprio la mentalità vincente? E questa credo che sia la mentalità vincente per poter sopperire alle mancanze. Io credo che il coach Gramenzi ha lavorato tantissimo sotto questo aspetto, perché comunque lo vedo, da quando sono arrivata, lo vedo tutti i giorni al campo e lavorare, sta sempre sul pezzo, è sempre lì a guardare video e questa cosa comunque è veramente importante perché li tiene sempre, li tiene sempre lì vicini e credo che la mentalità che si riesce a costruire sin dall'inizio te la ritrovi per tutto il campionato. Marco, parlavamo un po', perché poi, come dire, si fa anche il pre-partita, come si fa nel gioco anche qui, quando ci dobbiamo, pochi minuti prima di andare in diretta, parlavamo proprio del coach di Franco, che tu conosci molto molto bene e tu hai detto una cosa che mi è piaciuta, è come se si giocasse già sei contro cinque sul campo, perché ce l'hai qui in più. Conoscendolo benissimo, devo anche ringraziarlo perché in determinate situazioni ha speso parole sul mio nome, buone, per me Franco Ramensi vale un americano in questo campionato, a livello di preparazione tattica delle partite penso che Antonello potrà confermarlo, non so quanti allenatori ci siano meglio di lui, lo dimostra il suo curriculum, mi sembra che sia un coach stellato per chi ha vinto dieci campionati e non è che ci sono bisogni di presentazioni, il lavoro che si vede, questa Santi Angeli zero, la squadra vince, gioca bene, tutti quanti sono, mi sembra il classico stampo delle squadre di Franco Ramensi, quindi c'è poco da dire. Da bruttesi ci auguriamo il meglio per il Roseto sicuramente, anche se poi si arriverà alla lotteria dei playoff dove bisogna essere bravi e fortunati, certe volte essere solo bravi non basta. Qui mi hai già anticipato un po' uno dei temi che poi andremo a vedere ancora di più nello specifico perché poi di fatto ci siamo, abbiamo anche preparato una grafica apposta per vedere quali saranno le ultime tre partite delle prime tre squadre, insomma adesso il campionato entra veramente nel vivo, come vedi Biancazzurri Marco, insomma come li hai visti anche durante il passio? Io li ho visti benissimo, devo essere onesto che non ho seguito tutte le partite, ho visto la partita con Ruvo in diretta per ovvi motivi, vinta con un canestro di Santi Angeli all'ultimo secondo ma non è un caso perché la fortuna aiuta gli audaci e ripeto mi sembra la classica squadra di Franco che è costruita e partita con le giuste difficoltà che può avere una squadra che ha cambiato molto e man mano questo gruppo mi sembra modellato veramente a immagine la somiglianza del coach, non è che voglio incensare Franco ma mi sembra sia un dato oggettivo, vedere la squadra come gioca, come difende, come tutti sono coinvolti, come la panchina è coinvolta, mi sembra di rivedere Latina, mi sembra di rivedere Teramo, mi sembra di rivedere Scafati, mi sembra di rivedere Capodorlando, quindi sono film che Franco ha già dimostrato in tutta Italia. Una squadra che appunto segue il suo coach, vado da Federico Di Domenico, Fede come vispo appunto anche il periodo perché secondo me Roseto ha dato e sta dando segnali importanti soprattutto in ottica playoff perché non dimentichiamo in questo momento prima di Pasqua Roseto ha dovuto giocare partite insomma molto molto vicine è attesa ulteriormente da un periodo pazzesco a livello proprio di intensità, di tenuta quindi insomma anche questo secondo me è un dato che Roseto lancia, insomma un segnale che viene lanciato alle cosiddette contender praticamente. Fede? Sì Roseto sta dimostrando una grandissima tenuta sia da un punto di vista mentale che fisico perché come hai detto tu viene da un tour de force con tante partite importanti e con tante partite contro avversari di un certo spessore perché Roseto ha affrontato, dopo Montecatini è andato a giocare a Padova in quello che era uno scontro molto delicato visto la forza in casa della Virtus Padova che ha messo in difficoltà tante formazioni di primissima fascia e poi ha giocato in casa contro Sansevero praticamente tre o quattro giorni dopo vincendo e convincendo nonostante un piccolo momento di riflessione nel finale di partita comunque aveva fatto una grandissima partita contro Sansevero e poi è andato a San Mendemiano su un campo tra i più difficili del girone giocando una partita praticamente la forza di Roseto sta nel gruppo e sta anche nel riuscire a trovare protagonisti diversi non solo all'interno della stessa partita in diversi momenti della partita ma proprio in dei periodi perché abbiamo avuto periodi in cui c'è stato Manzaris che si è preso la scuola sulle spalle, periodi inizio stagione in cui l'aveva fatto ad esempio lo stesso Donadoni periodi in cui Durante è spiccato sugli altri, ora c'è Kriucinic che sta in un periodo di riforma importante quindi la grande forza di Roseto è anche questo aspetto secondo me che è un gruppo coeso, un gruppo forte fatto di tanti, non dico, non c'è una stella su tutte tranne chiaramente Manzaris che sta anche al di sopra dello status di stella però secondo me perché è un giocatore dal talento e dal curriculum che non abbiamo mai visto in queste categorie però non c'è un giocatore al di sopra come poteva essere Poletti invece fino a quando c'è stato e proprio l'assenza di Poletti ha responsabilizzato tanti altri giocatori, probabilmente che a turno poi si sono caricati la squadra sulle spalle e hanno trascinato Roseto e proprio per questo, questo è un altro motivo per cui Roseto riesce anche ad andare oltre i momenti altalenanti che sta vivendo Santi Angeli in questa stagione perché se è vero che Santi Angeli si era ripresa dopo il periodo di blackout dovuto ai problemi fisici è anche vero che ora Santi Angeli sono due partite che stecca e nonostante ciò Roseto riesce a vincere contro Sansevero e poi contro San Mendemiano in trasferta, quindi questo gruppo vi sta dimostrando la vera forza della squadra insieme a coach Gramenzi e questo non può che far ben sperare in vista dei playoff perché appunto se ci arriva in queste condizioni Roseto secondo me diventa a quel punto la squadra da battere. Se ci arriva in queste condizioni insomma l'affare si fa interessante Antonello io volevo anche riprendere questo concetto cioè se insomma anche per voi questi sono segnali importanti sul fatto che si sono giocate partite, tante partite in pochi giorni la squadra è in crescendo anche secondo me cioè qui non è che dici sta toccando lo Zenit, secondo me sta come dire appunto scalando le marce quindi insomma le tue impressioni. Federico affrontare tre partite una settimana non è semplice soprattutto nel finale di stagione se hai visto sul campo è veramente una squadra atleticamente, fisicamente non dico devastante ma quasi quindi ha tenuto a botta per tutti i 40 minuti in tre partite una settimana quindi veramente un gran lavoro, sta facendo un gran lavoro e dobbiamo continuare così. Mara discorso insomma tenuta fisica, tenere botta in diverse partite che diventa a questo punto diciamo per i playoff è un po' il punto cardine oltre al fattore fortuna, ne parlavamo poco fa, quindi come vedi anche te questi segnali da coach anche facendo come dire un parallelo? Sì chiaramente io dico sempre che comunque i playoff non è un luogo comune quando si dice una storia a sé, credo che comunque i playoff li vince chi arriva più in forma, non c'è nulla da fare, chi è più in forma fisicamente, chi è più in forma soprattutto anche mentalmente perché non ritengo che il playoff sia un campionato parallelo al campionale a regular season per niente, anzi è un campionato a parte e quindi lo stato fisico andare a giocare tre partite a distanza di giorni non è una cosa semplice, quindi se tu fisicamente non sei preparato e non hai le basi che hai gettato all'inizio del campionato, molte volte è capitato che tante squadre che sono state prime per tutto il campionato, io dico le ho vissute anche sulla mia pelle che sono arrivate prime durante il campionato, poi purtroppo durante i playoff sono state battute dalle ottave che magari erano tecnicamente, tatticamente magari un po' più scadenti però fisicamente avevano più benzina, come dire, avevano più forza, avevano più energia, avevano più uno stato fisico ottimale. E guardando anche la classifica, prego Francesco Di Carlo, arrivando un attimo da Marco, poi a breve mettiamo in partita anche il nostro pubblico, Marco io ti volevo coinvolgere anche sul discorso, vedete, Ruvo che ha avuto, l'abbiamo detto, insomma un po' questo sbandamento sicuramente per il cambio di panchina, te lo chiedo perché tu sei stato quattro anni a Ruvo, quindi insomma conosci benissimo l'ambiente Ruvo ma anche Faenza, insomma due squadre che hanno cambiato, Iesi che sembra quella, appunto le undici vittorie veramente sono tante, devi farle e quindi in questo momento sembra tenere il passo, se questi cambi di panchina secondo te possono, cioè che effetti possono avere secondo te? Soprattutto ti chiedo di Ruvo che un pochettino conosci l'ambiente, è arrivata questa vittoria facile sulla carta, poi devi sempre vincere, però ecco un tuo parere in merito? Allora, parere mio su Ruvo come squadra, devo dire che secondo me al completo Ruvo è la squadra più forte in assoluto, non so se Antonello mi sembra che parlandone prima abbia convenuto con me, per quanto riguarda il cambio di allenatore vi posso solo dire che conoscendo bene l'ambiente, essendoci stato l'anno scorso, sicuramente c'erano dei problemi, c'erano dei problemi. Non è stato, come dire, il classico colmine di testa? Il fulmine accio del sereno no, è stata una situazione che si è man mano deteriorata e la società ha pensato di fare questo passo, credo che Gian Paolo Ambrico sia in grado di gestire comunque una situazione difficile, anche perché può contare su un gruppo direi abbastanza coeso. Per quanto riguarda Iesi, sicuramente Marcello Ghizzinaldi sta facendo un grandissimo lavoro e sinceramente mi dispiace per lo tesoriere che non conosco direttamente, ma mi fa piacere per Gigi Garelli che è una persona che conosco molto tempo e l'ho sempre considerato un allenatore professionalmente molto preparato e anche lì nelle sue squadre c'è sempre stato un imprinting forte. Infatti, parlando prima con Antonello, dicevamo appunto che Faenza può essere una mina vagante e sicuramente un avversario pericoloso andare ad affrontare, perché sia la squadra è forte, è fattore campo e sicuramente è un allenatore che può mettere i famosi trabocchetti durante una partita, quindi è un avversario da prendere veramente con le molle. Per quanto riguarda Ruvo, ripeto, dipenderà dal recupero degli fortunati, è chiaro che credo che a tre giornate alla fine con il 2-0 negli scontri diretti il primo posto sia ormai una chimera, potrebbero recuperare una posizione, potrebbero, eventualmente credo che finiranno al terzo posto e poi, come diceva il coach delle Panthers, i play-off sono un campiato a parte. Si azzera tutto lì praticamente. Si azzera tutto e soprattutto la pressione sta sempre a chi è arrivato davanti, non chi è arrivato dietro che non ha più nulla da perdere e quindi gioca con una libertà mentale che sicuramente chi ha la pressione di dover vincere e non ha. Io mi sono dimenticato di dire una cosa importantissima. Secondo me i play-off li vince chi li ha giocati. E questo è anche un altro dato che può fare quella differenza. Perché durante i play-off la palla trema. Io li ho giocati quindi ci vuole esperienza per giocare, per vincere i play-off. Quindi ci vuole, secondo me, questo è il mio pensiero personale, attenzione. No, però insomma quando ci sono dei tiri da prendere. Il play-off li vince chi li ha giocati perché sa come affrontarli. Hai già vissuto, diciamo, le sensazioni. Come credo poi anche in ogni ambito professionale. Assolutamente. Un dato sicuramente molto interessante. Entreremo tra pochissimo ancora di più nel discorso play-off perché poi andremo a vedere la volata proprio delle prime tre. Mettiamo in partita comunque anche il nostro pubblico. State venendo il nostro numero WhatsApp. Quindi coinvolgo adesso Francesco Di Carlo in regia e soprattutto voi che ci state seguendo. Cominciamo insomma a leggere anche i vostri messaggi. Andiamo pure Francesco, ovviamente poi attendo anche da te i segnali su quanti ce ne sono. Ciao Lorenzo, Forza Roseto, un saluto a tutti. Una notizia che ha saputo ieri dopo il 20 aprile arriva a Visentin. Giusto per i play-off. Sono Stefano Carosi, Forza Roseto. Antonello, non ne perde una Stefano. Assolutamente. Salutiamo Stefano. Attenderemo anche il comunicato da parte dei Biancazzurri. Comunque sarebbe sicuramente un ottimo acquisto a rinforzare ulteriormente, allungare il roster anche per quanto stavamo dicendo poco fa. I play-off logorano anche. Quindi è importante avere squadre lunghe. Altro messaggio Francesco, un paio. Riccardo che è tifoso delle Panthers saluta appunto con stima, rispetto, ammirazione, affetto il coach delle Panthers Mara Buzanca. Domenica tutti al Palamaggetti per festeggiare la giornata della consapevolezza dell'autismo che oggi però appunto le Panthers la festeggeranno in occasione della partita come state leggendo anche voi alle ore 18 domenica contro Rovigo. Messaggio per la capitana Allegra Botteghi si è operata oggi. Contento che l'operazione al crociato sia riuscita dal tuo tifoso. So che tornerai più forte di prima. Ti sostengo, ti ammiro. Sei una grande giocatrice, donna e con tutto il mio cuore ti voglio bene e ti mando un grande abbraccio. Sempre Forza Panthers. Grazie Riccardo che come sempre firma ogni puntata. Dal proposito, Mara, insomma, intanto qui un elogio Rosetani presenti sugli spalti. 1100 chilometri, trasferte del genere portano via tempo alle famiglie e denaro alla saccoccia. E beh, assolutamente, insomma, farsi tutti questi chilometri per sostenere la propria squadra. Vado un attimo da Antonello proprio su questo. Antonello poi torno da Mara riguardo il principale giocatore, la principale giocatrice delle Panthers. Le Gran Botteghe che si è operata. Beh, i tifosi stanno anche tornando, Antonello. Si sentono e si vengono. Un ringraziamento speciale. Spendo due parole perché veramente già mercoledì Costanzevero e la trasferta di San Vendemiano erano venuti a sostenerci e questo fa veramente tanto piacere perché in questo finale di stagione c'è bisogno veramente di tutti. Quindi vi ringrazio ancora. La squadra ha bisogno, tutto l'ambiente ha bisogno quindi siamo contenti di riaverli e vogliamo sentire il vero calore che sta per arrivare nella parte più calda del campionato. Assolutamente, appunto anche qui fattore campo fondamentale per Roseto. Un flash prima di andare con il nostro primo time out Mara su Allegra Botteghi che si è operata oggi, operazione andata a buon fine. Pubblicata anche una fotografia, insomma, sui social Panthers. Giocatrice dal quale, insomma, bisognerà ricostruire anche il futuro più prossimo, Mara. Ma intanto voglio fare un grossissimo in bocca al lupo ad Allegra per tutto quello che gli aspetterà perché sarà, diciamo, la parte più importante il recupero e la riabilitazione. Sono certa che Allegra ritornerà più forte di prima perché caratterialmente la conosco molto bene, è una ragazza molto caparbia e con una forza e una voglia di ritornare in campo che la contraddistingue. E quindi posso solo dire in bocca al lupo, alli, non mollare e stai tranquilla che ritornerai più forte di prima. Un forte abbraccio anche da parte nostra ad Allegra Botteghi giusto in tempo, proprio a tempismo perfetto, chiamiamo il nostro primo time out. Non cambiate canale, ci rivediamo tra pochissimo, sempre qui su Super Basket. Rieccoci di nuovo qui, bentornati a Super Basket in diretta sul canale 16 su Super J 392 43 49 528 questo è il nostro numero WhatsApp con il quale vi invitiamo appunto a scrivere i vostri messaggi, ne stanno arrivando tanti ci state seguendo in tanti anche su Facebook e sul nostro sito. Allora mandiamo appunto in onda altri due messaggi Francesco poi torno in studio perché stiamo per parlare anche della volata praticamente playoff che coinvolge appunto le prime tre squadre ma andiamo a vedere i messaggi del nostro pubblico speriamo che Visintin arrivi prima possibile così avrà modo di integrarsi a pieno. Forza Roseto, questi appunto messaggi ancora da parte dei tifosi biancazzurri che ci seguono in tantissimi. Altro messaggio Francesco, sempre sul nostro numero WhatsApp in fondo è semplice, Roseto gioca a basket difesa che occupa sempre le linee di passaggio dell'attacco avversario sa fare contropiede con difesa schierata attacca con le giuste spaziature gestendo con i tempi giusti i blocchi e le relative uscite una sintesi praticamente di come giocare a basket praticamente Roseto applica perfettamente questi concetti tra l'altro diamo prima una veduta alla grafica poi vado dai miei ospiti in studio abbiamo preparato appunto questa volata praticamente delle prime tre formazioni vediamo quindi quali saranno le tre partite che andranno ad affrontare ed eccola qui appunto Roseto che avrà due trasferte Faenza, Ozzano in casa poi si va a Vicenza Iesi che in questo momento è seconda appunto affronta Imola in casa poi va a Fabriano e poi affronta nuovamente in casa la Virtus Padova Ruvo invece è anche lei ha due trasferte Ozzano poi in casa con Lumezzano e poi si va a Sansevero che bisognerà vedere insomma come arriva anche la stessa Fabriano con Iesi Antonello insomma riguardando anche la classifica Faenza adesso pare perché poi le partite vanno tutte giocate però dovrebbe essere usiamo sempre il condizionale l'ultimo ostacolo tecnicamente però appunto ci sono ancora altre due partite come vedi questa volata riguardando anche le altre due insomma le altre due squadre bisogna pensare una partita alla volta io la penso così da giocatore la penso così da dirigente quindi dobbiamo pensare una partita alla volta perché poi tutti hanno degli obiettivi Ozzano, Vicenza ci sono anche quelle che lottano giustamente per salvarsi quindi dobbiamo affrontare una partita alla volta e cercare di trovare i migliori risultati possibili Faenza appunto primo avversario di questo triptico ne approfitto anche un attimo Antonello perché insomma tu sei il team manager abbiamo notato anche insomma un po' una Vox Populi in negativo riguardo il discorso biglietti perché tanti tifosi che vogliono andare a Faenza insomma hanno trovato un po' troppo cari i biglietti so che c'è stata come dire una telefonata tipo ambasciatore tra virgolette il primo contatto diciamo che l'ho avuto io poi diciamo anche il presidente la società comunque si è mossa siamo fatti sentire perché i prezzi credo siano un po' alti anche per la Serie B ma ci hanno risposto che praticamente questi prezzi loro li ha atti uno da più di due anni quindi per loro è normale per noi sembra un po' esagerato ripeto poi il tifoso che scriveva prima immaginiamo chilometri, spese, benzina cioè oltre a prezzo così alto il biglietto sinceramente non aiuta i tifosi non aiuta nessuno non aiuta il movimento perché poi avremo palazzetti vuoti e questo a noi dispiace quindi dobbiamo incentivare sia i tifosi avversari che i tifosi di casa sia a stare a palazzetto e tifare quella propria squadra anche perché credo Antonello insomma con prezzi leggermente più bassi penso che la cornice sarebbe stata assolutamente sicuramente sì Mara vediamo un po' che scuotevi la testa qua torniamo e lo voglio affrontare anche con Marco perché parlava insomma Marco che ha fatto tanti campionati soprattutto nel sud Italia mi dicevi palazzetti da 4.000 5.000 persone insomma pieni strapieni Mara anche qui insomma incentivare ho scoperto che sono stati tutte e due in Sicilia ecco quindi molto vicini lui ha giocato a fatti quindi esatto Antonello io non lo sapevo tu puoi pattese io ero in giro a giocare sicuramente esatto lui è allenato a Barcellona Pozzo di Gotto quindi sei a casa mi trovo mi trovo veramente in un'area siciliana mezzo ai buddaci no 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 io non sono io sono pattisana anzi pattese tra l'altro io trago spunto anche un po' dal discorso diciamo il calore del sud Italia ma ecco questa era una partita che penso avrebbe fatto un pubblico incredibile peccato perché davvero poi da Roseto in tanti veramente poi hanno commentato anche in modo molto molto civile cioè non ci sono state neanche offese ti dispiace perché oggettivamente pagare volevo aggiungere hanno un palazzetto 4.000 posti 4.500 posti quindi se non mi sbaglio gioca nello stesso palazzetto Faenza si gioca nello stesso palazzetto della serie della serie 1 esatto la struttura è importante la struttura è importante sì sì peccato perché comunque non è sicuramente non è una cosa bella poi oggi come oggi bisogna fare conti con tantissime cose credo e bisogna andare incontro anche a tante famiglie che vorrebbero andare al palazzetto vorrebbero portare i loro figli a vedere le partite e comunque penso che sia una cosa anche bella dare la possibilità di poter di poter far entrare più famiglie possibili dentro dentro i palazzetti per far vedere per far vedere la pallaccanestro per fare frequentare pallaccanestro ai loro piccoli ecco io credo che mettere dei prezzi esorbitanti non porta non porta a niente anche perché puoi lavorare sulla quantità più certo che lavorare su diciamo sulla qualità tra virgolette ecco e quindi penso che sia una cosa sbagliatissima Marco qui rischiamo di essere come dire di dire cose ovvie però in realtà poi dobbiamo dirle perché ecco succedono ma non perché stiamo puntando il dito a faenza in questo caso nel senso ognuno fa le sue scelte però c'è stata comunque come dire una sorta di sollevazione civile da parte dei tifosi biancazzurri che dicevano signori però già appunto bisogna fare i chilometri verremo in tantissimi tra l'altro anche lì io ragiono in modo cinico Marco se ti vengono tanti tifosi ospiti insomma comunque fai cassa anche se metti un prezzo un po' più basso beh se arriva Roseto sai già che comunque in dote il palazzetto è grande poi il palazzetto di Firenze è un bellissimo campo però mi pare che loro facciano anche un buon pubblico per la segre B noi quest'anno ad esempio a Campli giusto per dirne una per riavvicinare il pubblico abbiamo scelto di non far pagare il biglietto di fare l'entrata gratuita devo essere onesto che tu sei stato parecchie volte a vedere le nostre partite questa scelta per il momento ha pagato perché stiamo riavvicinando le famiglie ma è normale che per la società è uno sforzo anche questo non è indifferente rinunciare con i costi con i costi il cosiddetto botteghino come veniva detto sì al botteghino sapendo benissimo che oggi mantenere i bilanci insomma con i soldi che scarseggiano non è una cosa semplice quindi questa scelta di Firenze che poi appunto stiamo dicendo liberissimi di farlo hanno chiarito anche Antonello insomma ce l'ha detto che sono un paio d'anni che attuano questa politica di fronte a questo uno alza le mani sì 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 però diciamo intanto ci hanno provato no? certo ci siamo fatti sentire assolutamente diciamo che comunque la società Roseto si è mossa tornando un attimo sul discorso della volata voglio coinvolgere un attimo Federico poi ritorno in studio dai miei ospiti Fede riguardando anche le partite Antonello giustamente secondo me dice ragioniamo una partita alla volta con te possiamo diciamo spingerci un po' di più su una sorta di fanta playoff tra virgolette Fede o comunque dare un pronostico tra virgolette un po' più ampio chi vedi avvantaggiata oppure se secondo te anche guardando le avversarie c'è una sorta di parità anche qui ti chiedo sulle prossime tre partite sì allora sicuramente in questa fase della stagione sarebbe meglio incontrare squadre che non hanno obiettivi però in questo girone tutte le squadre stanno giocando per qualcosa che siano i playoff un miglior posizionamento della griglia che siano la salvezza diretta piuttosto che play out non ci sono mi pare squadre escluse del tutto da questi discorsi una delle poche potrebbe essere Chieti quella fascia di classifica lì che comprende Chieti non so se Ravenna sta a due punti sotto forse comunque quasi tutte le squadre lottano per qualcosa quindi si equivalgono un po' anche ai calendari delle squadre c'è Fabriano che ha il derby casalingo con Sansevero all'ultima due partite in casa una in trasferta come Roseto Roseto che sfida squadre che stanno lottando per evitare i play out come Ozzano e Vicenza e in più va a Faenza che invece deve lottare per conquistare i play out Faenza secondo me è una di quelle che combatterà fino all'ultima giornata per l'ottava posizione quindi un calendario abbastanza complicato certo superato l'ostacolo Faenza poi potrebbe essere tutta abbastanza in discesa e poi c'è Iesi che ha due sfide casalinghe più il derby di Fabriano da giocare in trasferta Iesi sembrerebbe essere la squadra più in forma del momento perché non perdere tra gennaio e aprile insomma è davvero qualcosa di una striccia importante quel derby a Fabriano potrebbe dire tanto della stagione di Iesi perché secondo me dovessero riuscire a superare anche quell'ostacolo potrebbero fare 3 su 3 e chiudere un campionato con 14 vittorie consecutive che potrebbe costarli il primo posto solo se Roseto dovesse fare anche questo 3 su 3 perché a pari punti mi pare che Iesi abbia lo scontro diretto a favore quindi in questo momento io onestamente vedo Ruvo un po' indietro nella corsa al primo posto e Roseto che chiaramente può decidere il suo destino perché vincendo le prime tre sarebbe sicura di chiudere davanti a tutte e Iesi che però sicuramente farà sentire la pressione a Roseto non mi dovessero sorprendere se sia Roseto che Iesi dovessero vincerle tutte da qui alla fine e quindi se la classifica potesse rimanere così come adesso allora vediamo ancora se ci sono messaggi che vengono dal nostro numero Whatsapp che appunto vi vado a leggere nuovamente 392 4349 528 poi vado da Coach Mara appunto per parlare della situazione in casa Panthers non è l'unica società in B che applica questi prezzi e comunque la società è sovrana detto questo sono 5 euro a tenerci lontano vabbè poi come dire io abbiamo notato questa sollevazione in un certo senso da parte dei tifosi di Roseto beh però Faenza insomma è un po' di chilometri te li devi fare comunque buonasera e forza Campi poi ripetiamolo non è stata un'accusa a Faenza è una constatazione di una Vox Populi quindi non abbiamo detto che Faenza sbaglia può mettere anche i prezzi a 200 euro poi ognuno fa le sue scelte ancora messaggi messaggi andiamo buonasera e forza Campi complimenti a coach Marco ottimo lavoro nell'under 19 grande la prima squadra un saluto appunto ai tifosi campesi Campi ci manca tantissimo ecco un'altra di quelle realtà che come diceva Marco porta pubblico in serie C e insomma dovrebbe stare ai piani più alti ma ci arriviamo tra pochissimo l'ultimissimo Francesco l'ultimo messaggio prima di andare da coach Mara Buzanca qui in studio andiamo pure a vedere buonasera a tutti e complimenti per la bellissima trasmissione che seguo sempre con piacere volevo fare i complimenti a coach Gramenzi per il gran lavoro svolto da settembre a questa parte ai ragazzi che stanno tirando fuori gli artigli ad ogni partita l'assenza di Poletti per il gruppo è stata una manna dal cielo personaggio non degno dei nostri colori speriamo di conquistare altri due punti domenica forza ragazzi e sempre forza Roseto Dipa che salutiamo e ringraziamo allora parentesi adesso dedicata al basket femminile e qui vado ovviamente da Mara il campionato che non si è giocato però andiamo a dare un'occhiata comunque alla classifica Francesco quindi soltanto la classifica del campionato di serie 2 femminile ci sono state appunto le festività di Pasqua la situazione è questa quindi rimasta invariata ovviamente perché non si è giocato con le Panthers consolidate al momento a quota 34 punti con un terzo posto da difendere praticamente Mara quindi ti chiedo innanzitutto anche in questi giorni come è andata soprattutto se la pausa è stata anche benefica perché oggettivamente sono stati ne parlavamo con Corbelli nella scorsa puntata col DG insomma veramente due mesi incredibili sotto tutti gli aspetti quindi se c'è stata diciamo una sorta di stasi positiva ecco o più che altro un recupero ecco questo verbo è stata sicuramente benefica perché gli ho detto alle ragazze invece di andare a casa di andare una dalla Madonna io sono scelta la Madonna del Tindale comunque Meggiugori Lourdes ecco tu sei andata a Tindale perché tutto quello che è potuto succedere è successo quindi comunque a parte gli scherzi che è un po' di ironia un po' di scherzo va benissimo assolutamente perché in maniera dobbiamo anche sdrammatizzare perché comunque la situazione infortuni c'è ed è molto gravosa per noi ed è molto importante perché come sai bene Mattera è fuori per un problema tendineo per uno stiramento stiamo cercando di recuperare di recuperare Miccio spero che per l'ultima di campionato che Miccio possa essere recuperata diciamo al 50% stiamo cercando di recuperare Bona anche lei un po' alle lotte con alcuni problemi muscolari che dirti non è semplice non è semplice perché comunque quando tu inizi a fare un lavoro quando poi piano piano ti cominciano a mancare delle giocatrici poi a reintegrarli devi riprendere di nuovo da quello che avevi iniziato e ti posso assicurare che il cammino non diventa più così lineare ma diventa un po' più complicato però dico io non non demordo vado avanti perché fa parte del mio carattere non non mollare mai facciamo cerchiamo di affrontare partita dopo partita e con quelle che abbiamo chiaramente con le giocatrici che abbiamo si fa di necessità virtù come si come si suol dire io colgo questo famoso detto praticamente necessità virtù che ti ha portato anche ultimamente proprio per necessità a dare ampi minutaggi anche alle ragazze giovani e mi pare anche di aver capito che è una cosa qua parlo un po' diciamo in diciamo discorso assoluto una cosa in cui credi c'è discorso con le giovani con quello che poi è il tuo futuro praticamente mare il futuro di una squadra cioè avere anche giustamente giocatrici esperte senior ma una forte base di ragazze giovani che ti seguono anche questo ti chiedo se in un periodo pazzesco appunto come quello che sta passando la squadra hai trovato comunque anche queste cose in positivo cioè delle risposte anche dalle ragazze più giovani sì 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 li ho trovate li ho cercato di motivarle più che altro perché loro avevano bisogno di essere motivati avevano bisogno di avere delle piccole responsabilità che magari forse prima non avevano e poi comunque alla fine i giovani sono il futuro una società senza giovani non riesce ad andare avanti nel senso che credo che possa fare un paio d'anni due anni ma poi se dietro non hai la linfa la linfa vitale che sono le giovani prima o poi vai a morire io credo fortemente in loro perché penso che devono avere il loro spazio chiaramente gradatamente devono fare il loro percorso accanto alle più grandi che gli danno esperienza che gli fanno crescere che gli fanno maturare e piano piano devono cercare di conquistarsi i loro minutaggi e quindi io ci credo tanto in questo ho avuto molte risposte positive da parte di Bardaré da parte di Polimene e Rosemini stessa devono solo crederci perché loro non hanno hanno poco autostima io noto questo io cerco di caricarle di farle sentire importanti anche qui settore giovanile un po' viene il discorso viene da sé perché tra l'altro una formazione delle Panthers ha partecipato proprio qualche giorno fa in un torneo in Croazia credo sia l'Under 14 l'Under 15 l'Under 15 e hanno battuto anche le ragazze della Stella Rossa quella Stella Rossa quindi non stiamo parlando di una succursale eccetera poi ovvio è un risultato da Under 15 diamo il giusto peso ma insomma queste piccole cose questi tornei queste manifestazioni per un settore giovanile andarsi a confrontare con in altri in altri paesi dove la palla a canestro comunque non dico che è diversa ma sicuramente hanno una mentalità diversa da quella che possiamo avere noi infatti parlando con Giovanni con Giovanni Montuori che è stato che lui allena il settore giovanile mi diceva appunto questo che ha fatto bene alle ragazze ha fatto bene anche a lui potersi potersi confrontare e chiaramente oggi parlando con Giovanni mi ha mi ha detto sai Mara ho parlato con un allenatore di una squadra che ora non mi ricordo non mi ricordo qual è e mi ha detto noi nel settore giovanile non abbiamo tanto tempo questo non abbiamo tanto tempo Giovanni mi ha detto sai Mara mi ha fatto riflettere tanto ed io credo che ha ragione noi molte volte pensiamo che dobbiamo lasciare del tempo alle giovani perché devono maturare perché devono invece non è così dobbiamo cercare di renderli pronte e di renderli più responsabili e di fargli capire che la palla a canestro va bene come divertimento fino a un certo punto però dopo ci vuole qualcosa in più vediamo se ci sono ancora altri messaggi sul nostro numero whatsapp mentre stiamo vedendo appunto le clip dedicate alle Panthers altri messaggi sul nostro numero whatsapp ci state seguendo in tantissimi quindi vi diciamo grazie anche su facebook buonasera sempre un piacere vedere questa trasmissione volevo chiedere un parere tecnico alla coach Buzanca sulla grandissima Sorrentino la vera leader silenziosa delle Panthers forza Sorre forza Panthers forza Bruzzo MS che scrive sempre grandissimo tifoso di Giulia Giulia ultimamente viste anche insomma visti tanti infortuni come dire ha dovuto cantare e portare la croce come si dice anche qui in gergo Mara si si no Giulia chiaramente si sta prendendo delle responsabilità che magari prima non aveva con Miccio e Botteghi diciamo che avevano tantissime tantissime responsabilità ora Giulia è entrata diciamo a spada a spada tratta nella devo dire che Giulia la conosco perché ci ho giocato contro diversi anni e quindi posso non posso solo che dire che Giulia è un'ottimissima giocatrice ha delle buonissime qualità offensive magari un po' meno difensive però stiamo cercando di migliorare quelle che sono diciamo quelle che possono essere le sue lagune però è un'ottima giocatrice e chiaramente mi fa tantissimo piacere poterla allenare autrice tra l'altro della prima storica tripla doppia in 103 anni di paracanestro femminile dopo qualche insomma qualche settimana prima l'aveva fatta Manzaris quindi insomma tutte e due poi che hanno condiviso questo questo primato vediamo ancora Francesco grazie che mi fai segnali quindi possiamo leggere appunto gli altri messaggi buonasera Lorenzo attento ai ospiti un saluto speciale alla coach Buzan che un in bocca al lupo per le prossime sfide siamo certi che porterà le ragazze al massimo risultato possibile un abbraccio forte alle nostre allegra Botteghi e Caterina Mattera con l'augurio che tornino quanto prima in campo l'abbonata numero uno Valeria Pappalardo alla quale mandiamo un fortissimo abbraccio allora restiamo adesso invece anzi andiamo un attimo sul discorso delle minors poi a breve nella terza parte parleremo anche di B interregionale Marco coinvolgo te sul discorso Campli nello specifico la nuova Farnese Campli anche qui c'è stata la pausa dovuta alle feste però insomma seconda fase in pratica del campionato io però posso già dire poi tu mi darai conferma una quasi under 21 perché l'età media era bassissima che comunque se non erro ha chiuso al quarto posto quindi adesso ovviamente c'è la seconda fase diciamo la prima parte di campionato chiusa con un ottimo quarto posto un primo bilancio diciamo risultato decisamente sopra le attese più rose quando all'inizio del campionato si fanno la famosa griglia nessuno pensava che noi potessimo arrivare là siamo stati per una sera addirittura terza in classifica speriamo di blindare il quarto posto che credo che per quello che ha fatto la squadra durante l'anno sia un risultato meritato abbiamo adesso due partite in casa che saranno fondamentali con Venafro e poi il derby con Teramo vincendo queste due partite penso che non è matematica ma al 99.9 periodico saremo quarti e sicuramente insomma è un risultato rispetto al bilancio che avevamo rispetto al roster dove Daniele Ciambrone che ha 26 anni è il nonno di tutti sicuramente abbiamo fatto un'ottima stagione fino a questo momento sicuramente Campli la conoscevi perché è una di quelle piccole realtà piccole e grandi realtà Marco che ha tradizione come ti sei trovato anche insomma guarda io sinceramente mi sono trovato benissimo ma sai i campi li conosciano in tutta Italia nell'Italia cestistica perché comunque è sicuramente la prima società in Abruzzo che ha fatto la Serie A in assoluto e poi ha fatto non so quanti campionati di Serie B B1 Antonello poi ne sa qualcosa perché tanti derby le tante partite giocate come no è chiaro che negli ultimi anni insomma ci sono stati purtroppo dal la crisi economica ha portato a due chiusure con rispettive ripartenze noi siamo ripartiti l'anno scorso hanno centrato la promozione in C unica stiamo cercando di creare le basi senza fare il passo più lungo dalla gamba anzi l'abbiamo fatto più corto imbottendo la scuola di giovani tenendo presente che abbiamo un'ossatura formata da parecchi giocatori campesi che per un paese di 3 mila abitanti insomma direi tanta roba stiamo cercando di lavorare tantissimo sul settore giovanile implementando i numeri al massimo diciamo che per essere una piccola realtà non possiamo lamentarci né della qualità fisica né della qualità tecnica è chiaro che questo è un lavoro che poi spetterà alla dirigenza cercare di creare presupposti per avere un bilancio un pochettino più alto per potersi dedicare ad attività che possano permettere lo sviluppo dei giovani esempio prima Mara parlava di un torneo in Croazia a me piacerebbe moltissimo in tutti i posti dove sono stato dove ho fatto il settore giovanile ho sempre portato le squadre a vedere la serie A a far giocare contro squadre più forti questo crea sicuramente entusiasmo oltre che a portare decisamente un miglioramento nel bagaglio di esperienza tecnica individuale di ogni ragazzo Marco l'ultimissima un flash poi andiamo con il nostro secondo time out sul discorso anche del campionato di serie C tu prima della trasmissione insomma hai fatto anche qui tantissima esperienza nell'allora serie C1 era un'altra cosa ecco volevo arrivare a questo nel senso adesso pare che stia diventando più in negativo un attimo lo dico anche un parcheggio per i giocatori più giovani o i giocatori ormai diciamo da terza età festistica puoi vedere un'inversione di rotta cioè a me piacerebbe che fosse davvero un serbatoio per i giovani dove giocano tanto e poi male che va spiccano spiccano il volo la vedi un po' così lo vedi un vicolo cieco sotto certi aspetti io non so allora io credo che sicuramente se devo se devo parlare delle squadre prime in classifica nelle prime 5 o 6 e under che giocano stabilmente con minuti io ne vedo veramente pochi ecco quindi già questo se vogliamo considerare i 2002 no come sono ancora adesso under a 24 a 22 22 22 anni 23 anni io dico sempre che Nando Gentile è vero che ne era uno ok ma a 15 anni e mezzo giocava in serie no per dire 22-23 Antonello poi ne sa anche lui qualcosa cominci un po' Antonello Riva a 17 anni ne fece 32 a Milano contro l'Olimpia Antonello uno di quelli che ha giocato da giovane io credo che se un giovane merita deve andare in campo è vero che capisco anche capisco anche essendo stato tantissime volte sulla panchina che certe volte uno è legato dice magari se fai giocare il giovane e perdo mi mettono la croce se invece fai giocare che ne so Antonello a 40 anni e perdo nessuno mi dice niente non è non è sempre così io sicuramente nella mia carriera i rischi con i giovani me li sono sempre presi perché parlavo prima con Antonello io a Barcellona a Barcellona Pozzoglotto giocavo con Paparella Menzione Ricci che in tre facevano non arrivavano bisogna avere coraggio bisogna avere coraggio di lanciarli prendersi questa responsabilità è chiaro che poi dopo ti assumi le responsabilità e soprattutto come diceva Boscia Tani invece sul Gentile esempio che ho nominato prima c'era Gentile che mi ha fatto vincere tante partite all'ultimo secondo voi sapeste quante me le ha fatte perdere per buttare una esatto capito c'è il percorso allora il giovane se non ha il coraggio di buttarlo proteggerlo e aspettarlo vedendo in prospettiva le qualità che ha rischi di bruciarlo cioè nel senso che se gioca sbaglia il pallone decisivo e tu gli vai addosso sicuramente gli hai fatto del male bisogna avere il coraggio di aspettarli giovani e il coraggio di farli giocare questo sicuramente allora prima di andare con il nostro secondo temato perché li vedo nel nostro monitor ma li avete visti anche voi io saluto in primis Gianluca Lulli bandiera storica insomma del Teramo attuale allenatore afferentino ciao Lullo ciao Lorenzo buonasera a tutti buonasera a te grazie ovviamente per aver accettato il nostro invito appena terminato appunto di allenare proprio la sua squadra e poi vedete anche l'allenatore della Teramo Spicchi che torna a trovarci Massimo Gramenti ciao Max buonasera Lorenzo buonasera a te ai tuoi ospiti i tre spettatori e a Gianluca a distanza grazie grazie Massimo anche a te per aver accettato il nostro invito allora vi tengo ancora per un attimo in panchina giusto due tre minuti perché lanciamo il nostro secondo time out non cambiate canale ci rivediamo tra pochissimo sempre qui su Super Basket è incredibile rieccoci di nuovo qui bentornati a Super Basket stiamo vivendo la ventiseesima puntata della sesta stagione allora andiamo a leggere appunto i messaggi perché stanno arrivando sul nostro numero Whatsapp a breve andrò sia da Gianluca Lulli che da Massimo Gramenti quindi andremo appunto a vedere l'ultimo turno anche del campionato di B Interregionale però andiamo a leggere i messaggi Francesco in cabina di regia sul nostro numero Whatsapp tra l'altro ci state scrivendo anche su Facebook buona serata a tutti rivedere e risentire Gianluca Lulli quindi mi rievoca emozioni incredibili i momenti sportivi vissuti insieme per undici anni indimenticabili un saluto affettoso al mitico Capitano ciao Massimo il prof Claudio Mazzaufo che ovviamente appena visto Gianluca e Massimo subito insomma arriva arriva il messaggio altri un altro messaggio ancora Francesco poi a breve appunto andiamo a coinvolgere sia Gianluca che Max in collegamento un inchino al rematto ragion rondo già è vero annunciato oggi il ritiro oh ragazzi non vi fugge niente quanto l'ho amato e vive il basket sempre beh Grandmaster Flash che ovviamente il grandissimo Cristian De Luca che ci sta seguendo e gli mandiamo un fortissimo abbraccio ricordando tra l'altro il rematto appunto ragion rondo che ha annunciato il suo ritiro tra l'altro l'unico giocatore ad aver vinto un titolo con i Lakers e con i Celtics quindi davvero a questo primato tutto personale però torniamo al basket del nostro territorio perché andiamo a vedere appunto risultati e classifiche Francesco del campionato di Binter regionale vedendo sia play in silver che play out quindi facciamo un focus anche sulle squadre abruzzesi e non solo come nel caso appunto di Ferentino Ferentino di coach Gianluca Lulli che ha battuto proprio la Terramas Picchi di coach Massimo Gramenzi 83 a 59 Pescara che cade contro la Carver Roma vittoria appunto di Viterbo contro Pisaurum vince anche Porto Recanati a Cagliari quindi Porto Recanati che continua diciamo questa sua cavalcata diciamo in solitario vediamo infatti la classifica dopo la quinta giornata di fatto c'è una sola squadra al comando appunto a quota 18 poi vedete Stella Azzurra Carverrova Amatori Ferentino 12 a 8 Terramas Picchi Pisaurum Pesaro e Cagliari a quota 6 punti ricordiamolo qui le squadre sono già salve si lotta praticamente per accedere alla terza fase chiamiamola così play out quindi vediamo anche qui risultati e classifica della quinta giornata qui c'è stata una vittoria importantissima della Roseto 20-20 di coach Renato Castorina al quale facciamo i complimenti perché davvero ha vinto una partita di cuore e di carattere contro Isernia anche questa era una partita difficilissima 86 a 91 per i Biancazzurri e sono due punti molto pesanti in ottica salvezza vince Pescara Grottaferrata vittoria di Mondragone contro Civitanova vittoria di Ancona sul parquet del nuovo basket Aquilano la classifica quindi dopo la quinta giornata Civitanova e l'Aquila 14 Mondragone Ancona Pescara 12 Roseto 20-20 a quota 10 punti chiudono Grottaferrata con 8 e Isernia con 6 punti allora coinvolgo adesso Gianluca Lulli e poi andiamo anche la coach Massimo Gramenzi perché di fatto c'è stato un derby tra i due con Ferentino che comunque ha battuto la terra Maspicchi Gianluca non era semplice anche perché la TASP diciamo degli scalpi prestigiosi li aveva fatti compreso appunto il vostro nella prima giornata di andata dei Play in Silver quindi come hai visto questa vittoria continua diciamo questa rincorsa per accedere alla terza fase Gianluca consentimi di mandare un abbraccio virtuale a Mara visto che c'è l'istudio che abbiamo fatto il corso nazionale insieme quindi un abbraccio di cuore a Mara sono veramente felice che sia una piazza importante come Roseto e per quanto riguarda noi è chiaro che ogni partita nasconde delle insidie a onor del vero c'è da dire che Teramo si è presentata a Ferentino senza Stefano Moretti che è un giocatore molto importante per loro è chiaro che poi noi in casa abbiamo una solidità diversa una faccia diversa da quella che proponiamo in genere in genere fuori casa quindi nelle ultime 15-16 partite abbiamo una media di punti subiti pari quasi a 60 punti quindi abbiamo sicuramente una una bella solidità difensiva poi è chiaro che le percentuali ci hanno aiutato soprattutto nel primo tempo e poi dopo la partita diciamo l'abbiamo controllata abbastanza agevolmente anche perché noi avevamo bisogno sicuramente di riscattare la partita dell'andata ma poi chiaramente di non perdere punti importanti soprattutto in casa anche perché ci aspettano tre partite fondamentali di cui due fuori casa per cui era necessario comunque continuare questa rincorsa è chiaro che le partite nascondono tutte le insidie Teramo aveva comunque fatto una buonissima partita a Roma tre giorni prima per almeno 35 minuti quindi non inganno il risultato finale io l'avevo comunque vista aveva giocato una buona partita a Biterbo a parte il secondo quarto quindi le due partite in casa l'aveva abbastanza vinta agevolmente quindi anche la stessa Pisaurum sta giocando sempre sta dando il filo a torcere a tutti quindi è chiaro che ogni squadra ha un obiettivo poi nessuno ci viene a perdere per cui è stata comunque una vittura molto importante Faccio un po' diciamo un ping pong poi tra l'altro teniamo buono Gianluca anche per la parte finale perché lo voglio sentire anche nell'altro campionato insomma come vede i playoff di quanto stavamo dicendo anche nella prima nella prima parte Massimo partita insomma una sconfitta anche tra virgolette che ci poteva stare viste le assenze però Cotte volevo anche fare una sorta di mini bilancio nel senso che la TASP è salva ricordo quando sei venuto qui insomma in studio a salvezza acquisita con il passaggio praticamente nei play in silver e ti chiedo insomma anche qui sono arrivati comunque degli scalpi importanti ci sono state delle vittorie nel senso secondo me la squadra non si è disunita in un certo senso Massimo comunque sta continuando a giocare diciamo la sconfitta di Ferentino ci può stare però voi state onorando comunque questa fase e vista anche la formula abbastanza assurda non era facile Max sì sono d'accordo con te per quanto riguarda la partita di sabato o di giovedì passato contro Ferentino ha detto già bene tutto Gianluca quindi noi abbiamo avuto delle parzali scusanti a questa sconfitta però chiaramente abbiamo incontrato una squadra forte come avevamo detto nelle previsioni per quello che riguarda un po' un discorso in generale il rischio di approcciare questa seconda fase con troppa leggerezza e con un po' di superficialità era molto alto perché non ti nascondo che chiaramente la salvezza acquisita anche con la decisione di privarci dei nostri due giocatori più rappresentativi Zanetti e Duranti poteva poteva indurre un po' tutti quanti i giocatori noi piuttosto che l'ambiente un po' ad affrontare questa seconda fase un po' con davvero con pochissime aspettative e aspirazioni i ragazzi devo dire che invece sotto questo punto di vista sono stati bravissimi hanno colto quello che erano le opportunità quello che noi abbiamo rimarcato il fatto di poter prendere queste partite come anche una vetrina per loro comunque per poter crescere come motivo di crescita e devo dire che con le prestazioni che mediamente sono state fatte in campo devo dire che i ragazzi hanno onorato e stanno continuando ad onorare a pieno gli impegni gli impegni dominicali quindi mancano tre partite come ci siamo detti noi continueremo a fare il nostro campionato quindi cercheremo di affrontare queste tre partite con il massimo impegno cercando di fare il massimo possibile indipendentemente dalle rotazioni corte che abbiamo cercheremo come abbiamo fatto anche a Ferentino di dare più spazio anche ai ragazzi del nostro settore giovanile che comunque ci hanno dato una mano per tutto l'anno Ferentino ha giocato 11-12 minuti un ragazzo del 2007 di Gregorio un ragazzo nel nostro settore giovanile mi riallaccio un po' anche al discorso prima che si faceva dei giovani il fatto di provare comunque anche a dargli spazio e responsabilità e questo devo dire che sta funzionando Massimo anche vista la formula perché secondo me non era semplice da coach insomma motivare anche un po' una squadra che fondamentalmente era già salva ti chiedo se hai visto comunque un atteggiamento positivo da parte dei ragazzi ecco hai anche spiegato che queste ultime partite serviranno per far crescere qualche giovane comunque appunto premesso che la formula è quella che è ne abbiamo parlato più volte anche con coach Trullo nella scorsa puntata che ci ha dato insomma un punto di vista condiviso da tutti però hai visto risposte positive ti chiedo sotto questo aspetto sì ti ripeto Lorenzo l'atteggiamento è stato sia nel lavoro settimanale quindi negli allenamenti che anche nelle partite è sostanzialmente molto positivo io non posso recriminare noi come staff non possiamo recriminare nulla i ragazzi l'impegno che ci mettono tutti i giorni in palestra durante le partite è chiaro che la formula piuttosto che la possibilità di essersi salvati con largo anticipo o anche le scelte fatte chiaramente riprivarsi di alcuni giocatori non hanno e non facilitano il percorso anche settimanale di lavoro perché ovviamente ci troviamo a lavorare con delle rotazioni ridotte però ti ripeto sono stati bravi i ragazzi secondo me a capire quello che era una grossa opportunità e quindi stiamo continuando su questo percorso coinvolgo anche un attimo Antonello Antonello sul discorso di questo campionato ricordo anche quando venne il presidente della FIP Abruzzo qui in studio di Girolamo arrivarono un po' dei messaggi lo stesso Federico che diede un parere che poi bene o male è stato anche condiviso dagli addetti ai lavori se ne è parlato se ne è parlato tanto di questa formula dove appunto c'è un girone come il plain silver dove mi sono perso alla prima trance esatto no ma più che altro il diciamo formula veramente complessa squadre che hanno anche smantellato io direi che quello anche diceva lo stesso Gianluca Lulli lo stesso Massimo cioè va fatto un plauso secondo me in generale esatto alle squadre poi che hanno comunque stanno onorando fino alla fine le settimane come diceva il coach diventano difficili perché ecco smantellare poi una squadra o trovarsi privarsi dei giocatori migliori diciamo ad aprile a sette mesi dal campionato quindi non è assolutamente facile raggiungere l'obiettivo è la cosa principale però ecco giocare per nulla sinceramente non aiuta nessuno speriamo appunto che questa formula venga cambiata chiedo anche un attimo un flash Federico prima di congedare Massimo Gramenzi e poi torniamo anche da Gianluca Lulli Fede se hai visto insomma comunque mantenere alto perché lo stesso Gianluca Lulli l'ha detto cioè comunque si gioca per vincere insomma anche se hai una squadra ridotta all'osso ti se ne vanno i top player hai tutti giovani però poi non si va mai per perdere certo il rischio era quello di falsare ti chiedo un po' se hai visto questo ecco in generale sì come diceva anche il coach Gramenzi i giocatori della TASP sono i giovani ho capito la grande opportunità che hanno avuto in questo play in silver di mettersi in mostra di restare più minuti in campo magari di sfruttare questa occasione come una vetrina per farsi vedere per strappare contratti anche più importanti per il prossimo anno tra le tante critiche che abbiamo fatto a questa formula c'è una che forse è passata un po' in secondo piano di cui abbiamo parlato un po' meno il fatto che quando una squadra si salva a febbraio come la TASP non ha tanti non ha ambizioni poi per il play in silver perché obiettivamente era difficilissimo pensare di poter arrivare tra le prime due e quindi fare i playoff partendo comunque da sfavoritissima c'è anche il rischio che questo possa danneggiare i giocatori stessi perché di fatto questi giocatori resteranno da fine febbraio fino a inizio ottobre senza giocare partite ufficiali competitive nel senso con un obiettivo con un certo spirito perché un discorso è giocare per salvarsi giocare per fare i playoff giocare per dover raggiungere un obiettivo un discorso è giocare per vincere certo ma senza quella competitività che poi fa la differenza anche da un punto di vista mentale quindi i giocatori di queste squadre si ritrovano a stare davvero quasi otto nove mesi senza otto mesi senza disputare partite importanti e questo può anche danneggiarli secondo me da un certo punto di vista e qui la bravura deve stare nei coach a motivarli nella maniera giusta e mi pare che coach Gramenzi lo abbia fatto perché la TASP dopo le partenze di Durante e Zanetti comunque ha sempre mostrato il massimo impegno per portare a casa le vittorie anche se un vittorio sconfitta nel 90% dei casi non avrebbe fatto alcuna differenza diciamo allora io intanto mando un forte abbraccio a coach Massimo Gramenzi seguiremo le ultime tre partite di questa stagione della Teramo a spicchi Massimo grazie per essere restato con noi a presto grazie a voi è sempre un piacere un saluto a tutti grazie 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 al coach della Teramo a spicchi Massimo Gramenzi appunto lo ricordiamo Biancorossi ampiamente salvi seguiremo le ultime tre partite allora torniamo un attimo da coach Gianluca Lulli poi coinvolgo anche gli ospiti in studio riprendendo e qui chiedo a Francesco Di Carlo di rimandare in onda la grafica riguardo appunto la volata delle prime tre formazioni del campionato di B nazionale Gianluca è una persona insomma che vive la palacanestro a 360 gradi lo ha fatto da giocatore lo sta facendo adesso da coach ma lo fa anche proprio da amante del gioco del basket e quindi mi interessa anche il suo parere su questo insomma su questa volata del girone B Gianluca stai vedendo anche tu le tre partite le ultime tre partite che andranno ad affrontare Roseto, Iesi e Ruvo con appunto i ragazzi di coach Franco Gramenzi che tu ben conosci che in questo momento appunto sono primi solitari seguiti appunto a due punti da Iesi e Ruvo come vedi questa volata Gianluca come vedi anche i biancazzurri con Marco Di Stefano che ha definito insomma Franco Gramenzi un americano aggiunto nel vero senso del termine tu lo hai avuto quindi ecco il tuo pensiero in merito a Roseto in generale il fattore Gramenzi e come vedi questa volata Gianluca sono d'accordo con lui nel senso che Franco è un po' il valore aggiunto di questa squadra anche perché Roseto ha fatto delle scelte abbastanza equilibrate probabilmente se andiamo a analizzare proprio il roster profondamente a livello anche individuale non credo che abbia il miglior roster dei due gironi però poi è stata costruita con intelligenza credo che anche la rinuncia a Poletti alla fine sia stata una mossa che sta dando anche i propri frutti perché sono state create delle nuove gerarchie è chiaro che Roseto poi in casa ha tanto fattore campo ha vinto partite importantissime non ultima quella a San Vendemiano ma ha vinto anche a Rumo di Puglia quindi io credo che Roseto abbia comunque le carte in regola per arrivare fino in fondo parliamo sempre di un campionato complicato dove ecco Iesi probabilmente è stata un pochino la sorpresa del girone anche se ha dei giocatori molto importanti e con l'aggiunta di Di Berti probabilmente ha aggiustato ancora di più ha allungato le rotazioni e mi sembra che abbia fatto undici o dodici vittorie consecutive quindi Iesi è sicuramente un outsider molto importante mentre su Ruvo ho solo qualche dubbio riguardo al fatto che chiaramente non capisco perché sia stato esonerato uno degli allenatori migliori insieme a Franco di questa dell'intera B1 come Federico Campanella non credo che ci siano che possano esserci dei problemi legati a tecnici o tattici altrimenti veramente stiamo andando verso la deriva in questo sport per cui è chiaro che ho visto il calendario di Roseto probabilmente Faenza è la partita più complicata che hanno in queste tre partite anche perché Faenza ha rimesso dentro il vecchio allenatore poi magari ci sarà anche Moletti che avrà probabilmente il dente avvelenato non è sempre non è semplice giocare in quel campo però credo che Roseto abbia adesso trovato una solidità una motorità giusta per poter affrontare ogni impegno con grande serenità quindi credo che sia sostanzialmente ancora la favorita per arrivare al primo posto ho visto il calendario di Chiesi che probabilmente va a Fabriano e lì è una partita complicata visto che è un derby e il calendario più semplice se non ricordo male forse è quello di di Ruvo però Roseto avendo mi sembra due punti di vantaggio 2-0 quindi credo che possa veramente ambire a restare comunque prima in classifica Gianluca ti coinvolgo poi vado anche da Ruggio qui in studio sul girone A un attimo perché insomma con la PL Livorno che in questo momento è prima è molto toscano centrico verrebbero a dire ti chiedo se vedi diciamo una disparità a livello proprio di qualità dei roster oppure se la Coppa Italia può essere stato un segnale veritiero anche se si gioca a gara secca quindi lì davvero è 50-50 Gianluca insomma girone B un po' più forte rispetto al girone A ma probabilmente sì diciamo che io posso fare dei paragoni nel senso che comunque la quarta in classifica del girone delle due Livornesi è la Gemma Montecatini che è una buonissima squadra a livello di roster non credo che sia paragonabile a San Vendemiano che è la quarta dell'altro girone io credo che sostanzialmente nell'altro girone ci siano state alcune squadre che probabilmente hanno un po' deluso rispetto ai roster costruiti posso pensare ad Avellino chiaramente è una situazione temporanea però ormai mancano anche mi sembra se non sbaglio 3 o 4 partite quindi Avellino ho un pochino deluso la stessa Legnano secondo me come roster credo che potesse ambire a qualcosa di meglio credo che uno squilibrio possa esserci come probabilmente c'è tra i due gironi della serie A2 dove dove onestamente nelle prime sette partite della fase orologica mi sembra ci siano state 40 vittorie delle squadre del girone verde contro le 20 del girone rosso ma questa disparità credo che c'è mi sembra obiettivamente che ci sia in tutti i campionati perché anche da quando è iniziata la seconda fase il girone Marche Abruzzo ha vinto praticamente quasi il 70% delle partite totali riguardo sia i play in silver play in gold e i play out quindi ci sono squadre costruite letteralmente per ammazzare il campionato come possono essere Loreto come può essere Maperica giocatori squadre professionistiche secondo me il nostro campionato magari è stato un campionato un pochettino sottovalutato perché noi come la maggior parte delle squadre siamo delle squadre non professionistiche perché abbiamo anche persone gente che lavora gente che studia quindi alcune invece magari hanno dei budget hanno costruito delle squadre proprio per affrontare un campionato e probabilmente per arrivare fino in fondo la B1 è chiaro che alcune squadre hanno dei budget clamorosi hanno affrontato questo campionato per provare ad essere competitivi anche se poi dopo 34 giornate i playoff sai benissimo che sono una storia una storia a sé dipende molto da come ci arrivi non solo fisicamente ma anche mentalmente tutti gli allenatori insomma Mara Marco Ruggio che comunque ha giocato veramente tutti che dicono la stessa cosa i playoff si azzera letteralmente tutto Ruggio un flash te lo chiedo anche a te insomma sul discorso del Girone A che sicuramente osservi con interesse se secondo te ecco quello che ha detto anche un po' Giallo Caluli se concordi con lui avvantaggiato il Girone B però come dire anche il Girone A ha le sue deluse tra virgolette assolutamente concordo e poi guardando il Girone A sicuramente da metà classifica in poi dalla quarta all'ottava nona ci sono tutte squadre terribili squadre costruite per le prime posizioni però hanno avuto delle difficoltà uno su tutto Avellino Legnano comunque la stessa Sant'Antimo sono tutte ottime squadre affrontarle per le playoff sicuramente sarà difficilissimo perché hanno giocatori come diceva anche il coach Mara gente che ha vinto questi campionati che sta a giocare i playoff che hanno vissuto queste partite quindi arrivare con l'esperienza a quelle partite sicuramente aiuta messaggi sul nostro numero whatsapp siamo in dirittura ad arrivo per quanto riguarda questa 26esima puntata della sesta stagione di Super Basket andiamo pure Francesco poi il rush finale praticamente con i nostri ospiti buonasera a tutti si parlava in studio di avere coraggio con i giovani un applauso a Massimo Gravenzi e la TASP che giocano spesso con un 2002 2003 e un 2004 questo anche poi quanto diceva Marco sul fatto appunto di lanciare i giovani di avere pazienza leggo anche dei messaggi che ci state mandando sulla nostra chat Facebook Massimiliano Torregrossa esattamente un anno fa io e Valeria Pappalardo abbiamo conosciuto le Panthers in occasione della giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo felicissime di avere scelto Roseto per seguire il buon basket femminile e maschile un abbraccio a tutti voi un forte abbraccio a Massimiliano tra l'altro c'è anche Augusto Zilli che dice grande Federico si riferisce ovviamente al nostro amico Federico in collegamento Roseto Mara città del basket città che stai conoscendo tu poi che vieni da Patti dove il basket si vive anche in maniera molto molto sanguigna e verace mi dicevi e in questo concordo la maschile è ovvio che traina anche perché come dire è un dato oggettivo lo spettacolo lo vedi un po' di più nel basket maschile ma il basket femminile sta prendendo piede e tu mi hai detto giustamente a Roseto perché no si può portare anche il doppio degli spettatori al Palamagetti anche qui un po' trago un riferimento da quanto dice Marco avere pazienza Mara insomma sì sicuramente penso che da quello che vedo io nei campi ma è sempre stato così che comunque la maschile porta molto più gente più gente al palazzetto perché comunque la maschile è molto più spettacolare rispetto alla femminile si schiaccia c'è molta più velocità però penso che se noi andiamo a guardare bene guardiamo il gesto tecnico la preparazione e la tecnica proprio sopraffine delle donne io penso che ci possiamo innamorare anche del basket femminile e quindi invito tutti i tifosi a poter calcare a poter venire scusatemi al palazzetto a vedere queste meravigliose ragazze perché comunque hanno bisogno del calore di tutti quindi come il pubblico di Roseto va a vedere il basket maschile che comunque è un bellissimo spettacolo perché no deve venire anche a vedere la femminile perché anche là c'è della bellezza oltre alla bellezza delle ragazze c'è anche la bellezza della pallacanestra Marco vedevo che volevi insomma aggiungere qualcosa quello che diceva Marco sicuramente in questo studio credo e dirlo senza senza fallo sono l'unico che si ricorda la pallacanestra femminile sopra il volley femminile quindi io sono nato a livello proprio di numerico numerico senza alcun dubbio perché mi sembra che il pareggio sia avvenuto nell'87 88 e dopo c'è stato il sorpasso mi piacerebbe tantissimo che la pallacanestra femminile ritornasse il primo sport di squadra tra le ragazze che cosa bisogna fare per arrivare a questo bisognerebbe rinvestire che la federazione pensasse sia al settore maschile che al settore femminile ma soprattutto ricordiamoci che chi ha vissuto gli anni 90 si ricorda che la pallacanestra aveva quasi dato fastidio al calcio mi piacerebbe tantissimo mi piacerebbe tantissimo io che gli ho vissuti ritornare a quei momenti quando il TG1 delle 13.30 la prima notizia era che Dino Raggia aveva firmato per il messaggio Roma grazie a Dio li ho vissuti e spero prima di smettere di riuscire a riviverli io colgo il tuo assist perché voglio andare da Gianluca Lulli poi siamo appunto in fase di chiusura Gianluca quanto stava dicendo sia Mara quanto stavano dicendo Mara e Marco può passare anche da qui ti chiedo te che sei appunto un uomo di paracanestro veramente a 360 gradi cioè anche dal basket femminile la rinascita del basket in senso generale cioè le donne possono aiutare anche gli uomini in questo quindi come stavamo dicendo poi è un discorso ovviamente da massimi sistemi molto ampio però potrebbe essere un fattore questo Gianluca ma assolutamente sì io anche nella mia realtà magari Ferentino l'anno scorso per esempio c'era anche era stata costruita una squadra di serie C femminile ma so che anche molte società e dintorni dove abito credo che a livello giovanile stia crescendo tanto il numero il numero anche di partecipanti per quanto riguarda la femminile e può essere comunque anche la palanestro femminile può fare comunque anche da traino anche per quello maschile per cui credo che ci vorrebbe sicuramente anche un po' più di partecipazione ci vorrebbe anche è un discorso molto ampio ci vorrebbe anche molta più selezione nelle scuole sia per quanto riguarda proprio i ragazzi ma anche anche le ragazze perché io so che invece molte molte ragazze sono avvicinate al basket femminile femminile proprio perché prima di tutto magari sono stati fatti dei progetti scolastici importanti e quindi abbiamo prospettato anche delle anch'io quando quando allenavo a palestrina diciamo abbiamo prospettato anche la possibilità di divertirsi imparando in uno sport di squadra quindi anche coniugando l'aspetto sportivo ma anche l'aspetto dello stare insieme quindi il rispetto per i compagni e per lo staff quindi è chiaro che è un lavoro complicato ci vuole molto tempo però bisognerebbe investire soprattutto sugli allenatori che svolgono questa funzione e generalmente e complessivamente io credo che non si faccia questo da un bel po' di anni Allora siamo in chiusura quindi andiamo a leggere gli ultimi messaggi Francesco in cabina di regia aspetto ovviamente da te il cenno buonasera mai visti felici trascorsi ma visti pardon i felici trascorsi di Campli si può sperare in un ritorno più importante della squadra camplese si sente l'assenza di questa realtà in campionati più blasonati forza Campli un flash Marco speriamo che accada insomma Campi io lo dico sempre manca tanto speriamo che accada però ogni tanto accontentiamoci anche di quello che si sta facendo cercando di non fare il famoso passo più lungo della gamba che negli ultimi anni ha fatto diciamo vittime già vittime quindi andiamo per gradi allora campionato di binazionale anzi c'è un altro messaggio vedi perché poi arrivano sono un tifoso della TASP ma preferisco seguire la B1 da neutro per via di questa formula sarebbe ripetitivo e banale apostrofarla assurda è possibile una revisione durante l'estate del format oppure sarà fissa fino ad una nuova riforma se non erro dovrebbe essere cambiata praticamente quindi in teoria non si dovrebbe ripetere allora vediamo i prossimi turni rapidamente perché siamo già in extra time partiamo dalla B nazionale quindi abbiamo detto appunto di Roseto che va a Faenza e poi c'è la partita appunto tra Sansevero e Chieti per quanto riguarda l'altra abruzzese trasferta quindi difficile anche per la formazione di Coccianiello che però lo ricordiamo viene da due vittorie molto importanti da due vittorie di carattere che la mettono in questo momento in una sorta di comfort zone un flash Antonello di Faenza insomma abbiamo parlato abbiamo detto io parto solo da un dato ho letto tante volte nei vari commenti sui social tantissimi tifosi biancazzurri che dicono comunque vada io ci metto anche un po' di scaramanzia perché ovvio non bisogna dire vinciamo però tutti quanti che dicono comunque vada questa squadra ci ha conquistato e non è diciamo ho letto diversi messaggi sotto questo punto di vista cioè la squadra comunque è entrata nel cuore dei tifosi Antonello quindi al netto poi della partita con Faenza è entrata nel cuore perché lotta perché rispetta la maglia perché si impegnano sono i biancazzurri sinisti seri vedono questi tifosi quindi oltre a vedere anche un bellissimo basket fa piacere vedere sempre il giusto atteggiamento a parte dei ragazzi che lottano su ogni pallone e questo fa sì che il tifoso ecco si sente si sente coinvolto in questa in questa realtà quindi siamo davvero contenti e speriamo di vedere tanti tifosi a Faenza che sostengono la squadra e siamo contenti di di vederli sempre pieni palamangetti e di continuare così questa è la strada che credo sia la strada giusta per il finale di stagione campionato di A2 femminile in bocca al lupo ovviamente a Roseto e anche a Chieti si torna a giocare finalmente le Panthers che giocheranno domenica ore 18 al palamangetti contro Rovigo Mara Rovigo che è una formazione che lotta per salvarsi quindi un po' quello che dicevamo anche della della maschile sono squadre assolutamente da non prendere sotto gamba anzi volendo anche più pericolose in questo momento del campionato sicuramente sì poi siamo nel finale del campionato quindi dobbiamo cercare di prepararci al meglio soprattutto mentalmente per affrontare quello che viene dopo non bisogna mai prendere sotto gamba nessuna squadra a prescindere che possa essere prima o ultima affrontare tutte le partite con la giusta concentrazione nel migliore dei modi in bocca al lupo ovviamente a coach Mara Buzagna voglio salutare Gianluca Lulli come no assolutamente tantissimo gli mando un abbraccio un abbraccio grandissimo assolutamente assolutamente a breve poi andremo anche anzi ci andiamo adesso praticamente da Gianluca prima di aver visto il prossimo turno del campionato di B interregionale play in silver e play out andiamo pure Francesco che siamo in extra time questo è il quadro completo Pisauro un pesaro un pesaro un pesaro ferentino portore canati carverroma amatori pescara cagliari teramo spicchi contro la stella azzurra viterbo andiamo anche a vedere il prossimo turno dei play out con la 20-20 che riceve al palamagetti mondragone pescara basket il derby praticamente tra pescara e l'aquila ancona grotta ferrata e poi civita nova contro isernia Gianluca chiudiamo da te diciamo come penultimo in collegamento poi andremo anche da Marco partita contro Pisauro un pesaro l'hai detto insomma in questo momento sono di fatto tutti i scontri diretti Gianluca per accedere alla fase seguente partita fondamentale ma assolutamente sì è chiaro che se noi vogliamo alimentare le nostre speranze bisogna cominciare a vincere anche in trasferta direi che l'ultima trasferta che abbiamo fatto tra i canati credo che sia stata molto molto positiva purtroppo ci è mancato un guizzo finale però abbiamo anche incontrato una squadra molto forte Pisauro viene da due sconfitte fuori casa di pochissimi punti ha perso a Cagliari a supplementare a Viterbo negli ultimi cinque minuti credo che nonostante abbia residuo e speranze di poter ambire al secondo posto per i playoff credo che non ci darà campo libero nel senso sarà una partita molto complicata le due partite con le altre due squadre del nostro girone le ha vinte quindi noi dobbiamo assolutamente focalizzarci su quella di sabato anche perché credo che tutto si al 99% si deciderà all'ultima giornata quando noi andremo a Pescara con i scontri diretti con le classifiche avuzze quindi non ci resta che provare a vincerle tutte cominciando da quella di Pesaro di sabato Gianluca grazie di cuore per essere stato con noi un forte abbraccio e a presto in bocca al lupo per tutto grazie mille Lorenzo un abbraccio a te grazie dell'invito e un abbraccio un saluto a tutti i tuoi ospiti grazie grazie ancora coach Gianluca Lulli per essere stato con noi chiudiamo il discorso prossimi turni il campionato di Serie C Marco prossimo impegno per Campi ci si rituffa dopo la pausa insomma proseguire diciamo nel miglior modo possibile portare a termine la stagione con il sorriso Marco è una partita fondamentale giochiamo contro Benafro con il quale siamo sotto per differenza Canessi loro sono due punti dietro di noi a tre giornate alla fine vincendo li metteremo a quattro quindi insomma è una partita veramente importante mi auguro che il pubblico campese come ha fatto fino adesso risponda e venga a fare il sesto uomo come sa fare benissimo in bocca al lupo anche a Campi in bocca al lupo davvero a tutte le formazioni abruzzesi don cecchi in regia se ci sono messaggi Francesco altrimenti siamo in chiusura finisce qui appunto questa ventisesima puntata di Super Basket e ti ringrazio Francesco Di Carlo in cabina di regia grazie a Federico Di Domenico che è stato con noi anche questa sera grazie Fede alla prossima grazie a te un saluto a tutti alla prossima grazie ancora grazie ancora Federico Di Domenico grazie a Marco Di Stefano Mara Buzanca e Antonello Ruggio Ruggero per essere stati qui con noi termina qui appunto questa puntata di Super Basket ci rivediamo martedì sempre e solo su Super J un saluto a tutti e vive il basket sempre